L'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco ha rivolto il suo in bocca al lupo ai circa 500.000 studenti che il 16 settembre torneranno in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico. Quest'anno, ha detto Grieco, sono stati innalzati sia il parametro ISEE che l'importo del buono del pacchetto scuola, che con 9 milioni di euro di risorse comprende gli aiuti alle famiglie degli studenti in condizioni economiche svantaggiate per l'acquisto di libri e materiali didattici. Sono oltre 30.000 rispetto ai quasi 27.000 dell'anno scorso i destinatari degli aiuti. Tutti gli studenti con una soglia ISEE familiare, ovviamente, inferiore a 15.789 euro, quindi anche qui abbiamo aumentato la soglia ISEE, che riceveranno un contributo di 300 euro, quindi insomma una cifra importante, ma soprattutto abbiamo cambiato le procedure in modo da poterlo liquidare prima dell'inizio dell'anno scolastico. Quasi raddoppiate anche le risorse per il trasporto degli alunni disabili. Tra gli altri provvedimenti della Regione per la scuola ci sono i piani educativi zonali e quelli per l'alternanza scuola-lavoro, oltre alle iniziative per i Poli Tecnico Professionale, l'istruzione e la formazione professionale.